Ciao a tutti ragazzi e bentornati al mio canale Oggi ragazzi sono qui con Fuse Gamer Ciao ragazzi Per fare un video specialissimo Un video che sinceramente non ho mai visto fare No manco io Dobbiamo fare un duo ragazzi Faremo un duo ma siamo nella stessa postazione Giusto Perché abbiamo attaccato due console con due schermi diversi Quindi vedremo insomma quello che vede anche l'altro Eh infatti questo ti posso tornare a mano Esatto ovviamente Per oggi ragazzi sono qui per fare una sfida incredibile Come state vedendo tra 11 giorni ci sarà l'evento Ok Esatto che dovrebbe corrispondere anche a quello che sarà la nuova stagione Si Di Fortnite Quindi mi raccomando ragazzi come potete vedere dal mio negozio Utilizzate il mio codice creatore che è HOMYT Che state vedendo in questo momento appunto qui a schermo Mi raccomando perché durante appunto l'uscita del nuovo pass battaglia Certo Andrò a regalare 10 pass battaglia ragazzi A 10 di voi appunto che staranno utilizzando il mio codice Quindi come sempre se shoppate Taggatemi nelle storie Cerchiamo di arrivare a 10.000 supporter insomma Che in quel momento faremo la squadra Ovvio Esatto faremo il nostro team di Fortnite Comunque Andrea ha detto ciò direi di iniziare Possiamo iniziare Va 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 io sono già messo bro Esattamente ci daremo massimo un'ora di gioco ragazzi Sono le 15 spaccate Mi faccio vedere tanto non dico cavolate insomma E se entro un'ora Ora abbiamo fatto la vittoria reale Andrò a shoppare tutto il negozio che c'è in questo momento Ok che è tipo quante 12.000 Fisa points Fisa points esatto Big bucks Concentrati perché non Vabbè ovvio Mi raccomando eh Dai Lago corso Abbiamo le piscine dai Allora ci buttiamo l'ultima piscina in fondo Quella a sinistra Eh Ok si Vai tu Vado io in piscina dentro E tu vai in quell'altra pass È sceso con te Ok buona Tornata e pompa Dove sei tu? Di sopra Oh frate Ti sparano? No 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 C'è uno qui di sotto eh Eccolo ha costruito Si lo visto lo visto lo visto Ok sta spaccando qualcosa A terra Buono Perquisisco Nassi Vedi dove è Dove è l'amico Non lo so Proprio di sta pozzina qua Eccolo là Ma è lontanissimo Guarda dove è atterrato L'infanzo Proprio di sta pozzina qua Dove è? Ok Vedete la casa Sento passi Andrea Eh sta qua davanti a me sicuro Sta di sopra mi sa Sto dopo il pompa eh Sta di sopra sta di sopra L'ho visto Andiamo 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 di sopra 31 io ho fatto Eh scendiamo scendiamo Sono in posizione di merda Eh sto qua homo Eh io sono Che faccio scendo È sceso è sceso Eh lo so Porca troia 62 io ho fatto il bianco Pusciamo homo fidati Eccolo Ha mangiato la granata Il bastardo Atterra vai Hai atterrato Cazzo 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 Sta sopra di me vieni Vieni qua vieni qua Vieni qua dammi la mano L'ho colpito Cazzo Veloce veloce vieni qua Se no mi uccide È morto è morto praticamente È morto È morto Ti prendo la tessera Vai se mi rianimi In là vengo a prendere il lutto Sì faccio solo il medico Sì sì Mettiti dalla parte della montagna Qua è il mio arcovo Un cecchino E poi ti rianimo io Esatto E mi rianimo Torniamo subito a prendere il lutto Eh vieni la tua Ma vabbè filo ho raturato sto bastardo Ah perché tu adesso vedi Però sta nel ricottro Poco qua sopra di me Spero non mi veda Eccolo va Andiamo? No 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 andiamo avanti Andiamo avanti Ma hai visto? Sì 24 L'ho ucciso io Andrea Grande 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 Ma c'è l'altro là dentro No sono morti tutti e due Alla grande allora Eh però ma già fa Vabbè prendi tutto quello che ti serve Vuole la safe Bello sto barretto Oh tieni lo scudino Ce l'ho no C'è il predipapesce che mi fa 75 No in teoria Eh no però fatti lo scudino e vieni Eh aspetta Affini che è in muoio Vado in nel safe Ah per la safe Eh te lo prendi Il medico ce l'hai? Sì tre ne ho Ok Oh l'hanno appena costruito eh Dove? Dietro la cosa rossa Stanno gli scendini qua se ce l'hai Oh oh ho anche avanti costruito Se li vuoi portare Stanno scendini eh Occhio eh Sì 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 Eccoli là Hanno jumpato Prendiamo la loro jump Però no stanno jumpando in safe Jumpano per fightare Oh oh questi qua Stanno proprio qua Davanti a noi Porca trota Preso 126 Ma stanno fightando in voi Stanno fightando vabbè andiamo a fargli il culo Vieni 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 Sono lì sono lì Andrei vieni vieni Dove sto sparando io Sì 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 Si curano Ah hanno preso la jump Cioè c'è la jump Ah ce n'è uno ce n'è uno ancora là Hai jumpato Prendiamoci la jump Prendiamoci la jump Sei? Sì sì vai vai Stiamo larghi eh Ok intanto dura 50 secondi Voglio Intanto stanno 4 team C'è una pozzola in mezzo Andrea fattela Dove? Lì lì C'è la cassa E poi se non sdraga Stava attirava a sacco Sì Oh sta gente sta gente Ma fatti vedi Mettiti dietro l'albero Così cerchiamo Ah no 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 Sono loro Cazzo per poco Cazzo la safe Oh la safe Oh fateli col pompa Vieni 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 qua A terra Questo è qua Uno l'ho atterrato eh Sì 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 Eccolo Un'omanturio ho fatto Oh sta il barrette oro sta Stanno a jump Ok ok Sta un fucile a pompa Che ti serve forse Ah questa fa schifo Questo qua guarda Il pompa si dona Ok ma c'è Io andrei in safe Perché Ah no aspetta Con calma Con calma Qui c'è C'è la doppia pistola Oh via del barrette L'ho preso Eh no Ah non è silenziato Qui c'è la doppia pistola Quella che ti piace A te forse Quella di deck Eh la prima Finisci il doni Eh sì Quello sta uno che Vada là Ah 83 guarda Sta uno che appena ha sceso Però stiamocene qua noi Sono due Oh c'è il camion qui sotto eh Dove? Facciamocelo facciamocelo Pazzo c'è Oh oh è mezzo agli alberi Quello là Non facciamoci vedere Sei? Sì Dimmi quando scendere Sei? Vai Ok Ok 100 100 Buono Stiamo in safe Oh stanno là Dove? Ah no sono fatti l'airdrop Spariamo? Ah vai vai Ce l'hai sparata C'è la trota Comunque loro stanno proprio in safe Ok lo vedo Porca trota Ho preso te Ho peso No sono fuori lì eh Sono fuori? Sì Oh 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 Occhio dietro eh Eh copriti dietro Copriti dietro Sai cosa Andrea? Cosa? Ci mettiamo in una parte Siamo proprio in mezzo stiamo Capito? Andiamo dove ci sono gli airdrop però Vieni 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 Salta 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 che ci stanno sparando Vieni 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 Costruisci dove c'è il primo? Oh sta venendo Sta venendo uno con Morca puttana Preparati col pompa Dov'è? Dov'è? Qua Ragazzi Morto Eh pazzo male Che calo pazzo Vedi i materiali Oh ce l'hai ce l'hai C'è il legno Attento dietro Non ce n'è pure Non ce n'è un pazzo Volete provare a farli cadere Se cascano Ed è qua eh Eh sempre di me Terzi Aveva l'ultima pistola tanguro Vabbè però è stata una bella partita Andrea eh Sì sì però Siamo stati bravi 5 kg un assist Potevamo far meglio Però L'ora non è scaduta È mezzo È mezzo C'è le tre e mezza Vai vai Andiamo vuoi andare a Pantano Andrea? Voglio morire A Pantano Vai rispari Andrea Vieni qua Facciamoci subito questi Qui vicino Sono su Un po' lontano ci Eh forse su Oh Ops Stava sparando Una dava eh Eh non l'era Non l'era Non ha senso Eh ma come puoi sparare Dove sta ad andare Ma mi fatti po' Oh Salta salta Cazzo Sta giù Sta giù Che fai Oh Andre Volo chi è qua Eh pensavo fosse morto Nooo Una gammaronna Bravi scappa 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 Ecco 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 Sì sì Ah sta nato sta nato Andiamo 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 Non c'ho più armi Cioè non c'ho più Che pompa Bravissimo Vai vai chi di qua Andiamo subito a fullarci la vita Nel C'è il medikit No ma c'è il ruscello lì Se stai in acqua ti Pure labbra la vita Tutto tutto Oh sta uno là Vieni 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 Quanto vuoto Oh la bomba eh Ovviamente Nooo Vabbè oh Oh ma oh Mamma mia Mamma mia Mannaccia marina Mannaccia Mannaccia Da dove è arrivato? Eh da Sopra la montagna tipo C'è bamba fucile Questo via Di tre colpia Eccolo Eh vallo fa Vallo fa Ah vallo L'ho visto però 300-100 Eccolo Accorto Arrivo eh Arrivo Sta proprio dietro Eccolo Oh ma zero La fa a moccar mamma Don me e me Da ciro Non me lo Mi sono fatto prendere la forza Eccolo 860 A 30 Eh No Eccolo 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 27 Eeeh 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 E' zero te lo giuro Si 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 Cioè è a zero Si sta curando Bravo bravo Vai in alto No Ma ancora si è curato Mamma mia te lo giuro Io l'ho fatto fuori Si sta curando L'acciglia L'acciglia Sta di fianco a me proprio L'amico è morto quindi godo Bastardo Bastardo di merda Che si voleva indicare l'amico Cazzo mi pusha proprio Oddio se ti prende una volta sei morto Fai zig zag Vabbè Andrea E' andata così Che palla Questi qua ci vediamo fa Cioè te lo giuro io 850 almeno Ma maledetto T'ho anche ucciso Vabbè scommessa persa Andrea Torno alla lobby Mamma mia che palla Quindi Andrea Scommessa persa Vabbè mi rifaccio l'armadietto diciamo dai Eh si però non ci sta nuova Cioè nuova sta giuro Eh vabbè Allora acquista Vai Il primo l'abbiamo preso Ok Poi acquista Mi raccomando ragazzi Acquistate col mio codice creatore E' importantissimo Ma tu stai acquistando il tuo codice Si si sto Vabbè Almeno quello Vabbè Andrea Dimmi quella che ti piace Tanto devo comprare Almeno te la regalo a te Fai vieni qua Vieni qua No ma una di questa È una schino È solo quella Allora fai fratelli Boal Ba o zi Ok Andrea Allora Acquista e compra come regalo Si Continua Regalo giallo Invio regali Andrea Ma io già me lo riscattò Fai benissimo Eccolo qua Regalo completato Poi mi devo shoppare Questo qua Acquista Ok Preso Wow Eh però guardami un attimo È gigante Eh porca trota Vabbè no Sì in realtà dai Finiamo di shoppare però Maestra Maki Acquista Wow bello Sushi Qua con il sushi Equipaggia subito Bello Bello sì Ok Destino Sborona questa eh Non ce la fai però Eh Mi shoppà Che forza Porca troll Acquista Ma che palla però Vabbè era la scommessa Andrea Ci sta E dopo aver shoppato Allora destino Non l'avevo presa Ok se no mi diceva che ce l'avevo Sì Avanti Poi piccone Acquista Non dico di soldo Adio Che poi non le userai No perché ne usi una partita Acquista Però la sfida era quella E quindi Acquistiamo tutto Vai I balletti Codice creatore Me l'ha ricordato Visto ha detto Mi raccomando Usa quello Notifica di paypal E la spesa Perfetto Hai visto quanto è speso? Coglione E poi Vieni 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 a pagare Vieni a pagare Ok vediamo a pagare Quindi vediamo un po' Ok rompi ghiaccio Acquista anche questo E spero pochi perché Allora in possesso Tutti in possesso Questo te l'ho regalato a te Questo Questo devi prendere l'elaborazione No questo non Vabbè Andre però Per la prossima coppia lo compro E così lo facciamo insieme Scusa E poi Vabbè allora questo non acquistarlo Scusa acquistato due volte No 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 Andre quell'altro non c'entra Quello era un regalo per te Ah ok Ok Buona tutti in possesso dice Eh si Tutto lo short Ok Abbiamo speso tipo 14.000 V-Buck Però Abbiamo Comprato tutto quanto il negozio Quindi ragazzi mi raccomando Codice creatore HOMYT Come state vedendo a schermo A 10.000 supporters Faremo il nostro team Di Fortnite Quindi mi raccomando Seguitemi All'uscita nostra Agena ragazzi Regalerò il pass battaglia A 10 di voi Che ovviamente Utilizzeranno il codice Quindi mi raccomando Se siete nuovi Iscriviti al canale Grazie di visione Grazie di tutto E come sempre Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao